Io sentivo il ragionamento che ho iniziato a dire che mi rimetto a delle cose delle condizioni capite se è giustamente possibile a dire una risposta oppure a questa risposta come la parola delle ricette perché per alcune cose dobbiamo essere giusti in una maggiore comprensione e chiarezza perché mi è sembrata di percepire dalle parole che è l'assessente del Comunicato che c'è una forte aspettativa da parte della gente giustamente di tenere il proprio consenso o di continuare a pensare nel proprio appartamento o durante o eventualmente con l'acquisto di questo appartamento. Io a me è prestato a sapere di che fa quali sono con gli aspettativi, quanto forte è l'aspettativa di questa gente e poi che con l'ascendimento di questo articolo realmente o comunque può fare questa portatura che c'è stata lì e invece oggi ci sono altre aspettative di città e quali bisogna voglia di usare la gente che è tutta qui ad aspettare una risposta da voi. Grazie. Allora io trovo la richiesta fatta di grazie a te che crederete ciò che c'è una risposta anche di gente direttamente. Lei vuole dare una risposta? Per quanto riguarda il campo? Allora se il mezzo mi direbbe che non mi chiede sempre il mio. Allora per una breve replica che non si tratta di niente e non mi chiede. Allora per quanto riguarda il campo? Allora per quanto riguarda il campo? Già vanno adottati altri punti. Tanto per visitare il comune di Catania. Poi c'è un comune di Brunce di Catania. Comune di Catania. Esattamente il comune di Cipollivia. Comune di Cipollivia. Gli dizer. De rivedere mobonale numero 1212. Dei 25.15. 2013. Oggetto art. 1. Il Pretenzo Regolare dice di l'allocazione e la distinzione dei beni propri a tutti e a loro definiti. Il Comune ha crescita a tutti i patrimoni comuni, adoro dell'articolo 7 della legge 4785, coordinato con la legge nazionale per il terzo partito delle cittadine sottrati alle devoluzioni al servizio della cittadine. Articolo 1 dell'attività di gestione dei beni, del patrimoni di cui all'articolo 1 dell'attività di gestione dei beni, il Comune discontì e ispira a spugire le parole delle istituità sottrati all'esigenza del mantenimento della comunità di cui all'articolo 2 dell'attività di gestione dei beni, il Comune non so progetta all'aggiornamento dei beni, di democrazio, al termine del caso dell'aggiornamento annuale. Articolo 3 dell'attività di gestione dei beni, del territorio dell'attività di gestione dei beni, di democrazio, quindi lo danno alla locazione si il consigliere con l'ultimo che non c'è gente a comprare voleva sapere voi questo comitato darete i dispositivi alla locazione, alla lega qual è il gradimento del comitato e poi potete una domanda al mio tu ci dici e il fatto che ci riconosce che sono tra loro se uno si sta dicendo che può avvenire comunque vuoi sapere voi siete più disponibili a darete, come è no? 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 è una domanda è una domanda e poi Grazie a tutti.